Beh direi che giornata perfetta solo che siamo al 31 maggio e ci sono 13 gradi, 14 adesso. Ciao ragazzi, ho una bella prova della San Cristiano. Allora intanto diciamo subito che ho fatto 1300 metri di dislivello con ancora tre tacche di batteria, quindi più o meno metà batteria. La batteria da 500 secondo me su questa bici basta e avanza per fare 2000 metri di dislivello, quindi non ci sono problemi sulla durata. Assolutamente. Belle discese, belle tirate, giro divertentissimo. La bici è fenomenale. Vai, vai. 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 Vabbè. Ah Oh Oh bello 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 no no attaccato sarà dura no no si si compro si no 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 lolli stop io mollo rotto ah ah hai Alla prossima Il punto di riferimento è Pivot 29, Santa Cruz 27,5 Allora, abituato a guidare il 29 su una bici della Madonna come la Pivot Si sale sul 27,5 è come giocare E' facilissimo guidare la bicicletta Se si ricerca il divertimento puro Il 27,5 per me è ancora il top Al bivio dai Fino lì al bivio dai Mi schianto Alla prossima 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 Alla prossima